ragazzi e ragazzi rieccoci qua su Lost Judgment e proseguiamo dal Dice Cube che ho pensato andremo dopo questa partita che faremo al Dice Cube a continuare con la trama principale però siccome non mi dispiacerebbe completare questa missione secondaria ecco magari tra le due, adesso non posso cambiare mappa però tra quella del tipo degli estratti e questa magari qual è il tipo degli estratti non so perché devo trovare dei materiali però non so se li ho trovati e francamente cercare dei materiali in giro non ne ho granché voglia però questa siccome è anche bello come gioco non mi dispiacerebbe farla ma non volevo neanche monopolizzare un intero episodio giocando solo a questo gioco quindi magari vediamo ci giochiamo una partita a episodio ecco e poi andiamo avanti col resto così almeno piano piano la portiamo avanti ok facciamo sempre il percorso c'è standard breve che va benissimo ok salio forte sì ok ah però non scusa perché io i gashi l'ho già battuto ma aspetta che anche kaito non mi ricordo se l'avevo già battuto non mi ricordo dove andare a vedere i vecchi video se per caso però saltiamolo allora a sto punto vado in ordine perché se non te lo segna facciamo il sugiura va dai sì io pensavo che venissero tolti quelli che avevi già battuto vabbè guarderò anche meglio magari i dettagli della missione ok direi che possiamo dettagliare ok allora vai 4 combattimento aspetta anche di loro ok via ok 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 ecco facendo però diciamo sto giochino inizia arriveremo a cifre abnormi per quanto riguarda i soldi c'è vabbè vedi tre va bene ricassaforte allora io direi quanti punti a quattro punti no facciamo c'è anche la cura volendo 6 stelle non sapevo vabbè lanciamo normalmente oh finalmente un 6 ok io direi che andiamo aspetta andiamo eh di qua è più breve eh però stella per la edizione dovevo guardare le stelle in effetti tre stelle vabbè no forse è uguale mi sembrava più breve di lì però vabbè qui ho fatto tre va benissimo qui ho ottenuto stelle ok ok ottimo ottimo due finiamo ok le recuperiamo dai ok ok tre stelle ok esatto lo recuperate vabbè siamo molto più avanti di lui spero non ci blocchi ok ok ecco vabbè dopo due tiri ottimi va bene si può recuperarci qua un po' eh visto bastardo e vabbè ma ne ha diritto quindi saltiamo e ci supera qui eh aspetta se fa un 6 ci supera anche di troppo noi non possiamo fare nulla eh mizzega 5 ah è andato di là però attenzione lucky ok di là è il percorso più lungo eh ci sono più fermate ok adesso vediamo più caselle più che fermate eh due caracca adesso aspetta vediamo ok perché dobbiamo fargli saltare il turno anche a lui però verso la fine eh 6 maledetto dopo dei tiri funesti facciamo così tiriamo ok ok 5 va bene ok passina la cassaforte ok 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 perfetto 3 stelle allora adesso tocca a lui bastardo volevo farlo io e mi sa che ha vinto a meno che non fa dei tiri sfortunati a meno che non fa dei tiri sfortunati vediamo deve fare 1 2 3 4 5 deve far meno di 5 a vedere che fa 6 adesso ancora eh vabbè ma dai maledetto e ha vinto 1 ha vinto allora adesso deve far meno di 4 noi non siamo fermi aveva un sacco di stelle oh vai adesso vi faccio saltare io il turno maledetto ok salta turno ok 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 eh ma che cavolo però aspetta vediamo guadagniamo stelle e gli faccio saltare un altro di turno eh quello lo teniamo fermo noi aspetta vai ok su 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 qui c'è qualcosa una sfera un po' diversa dal solito eh ma qui aspetta cazzo la qua non c'è nessun appiglio fine fino in fondo ciao c'è mi torno si può tornare giù aspetta si ok si ok e c'è sto coso qua ci ha fatto perdere un sacco di tempo eh vabbè vediamo dipende almeno quante una quante stelle avevamo 5 ok perfetto lui salta adesso glielo faccio risaltare salta turno 3 si da parkour ancora lui salta tocca a noi faremo almeno più di due caselle ci mancano vai come quella di prima questa vado di qua vai 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 ok facciamo così ah si così ahia vai su 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 abbiamo preso andiamo il su più possibile ok prima di perdere la presa su 5 4 3 2 1 ok ok 5 stelle più 1 6 lui salta ok noi dobbiamo fare 2 senti io vado sul sicuro faccio modifica tiro più 1 ecco oh lei a posto abbiamo vinto incredibilmente è stata una lotta fino all'ultima combattuta fino all'ultimo praticamente ok vai altri soldi per noi bene ok Ehi, Tashiro-kun Da quanto conosci Sugiura? Sugiura? Oh, tendi il damerino In realtà non lo conosco affatto E allora come ci è finito in Death's Cube? Ci serve un bel faccino per compensare tutti quei brutti ceffi Quindi dopo averlo visto nella tua agenzia Mi sono procurato un paio di foto di riferimento Pessima idea amico Si è trasferito a Eijincho C'è buona probabilità che venga a scoprirlo Ah, allora sarà il suo regalo di benvenuto Dannati bellocci Quelli come lui hanno sempre una vita facile Credo metti una possibilità di ripagare la società Se verrà a rompermi le palle Toglierò i vestiti al suo personaggio Riffonderò le immagini in rete Magari non lo sai più Ma è ancora un cuore da jacuzzi Va bene Questo fatto Quindi torniamo all'agenzia Magari sempre per far prima Si, facciamo così Tanto davvero i soldi Non sono più un problema No, ho sbagliato zona Eh, aspetta Questa Ok No, ho sbagliato strada E di qua No, ho sbagliato Grazie E non penso sarà contenta di vederci E non penso che ci sono Sì? Sì, c'è un uomo di altri altri. Cosa diceva di Sugiura di Yoko Hama 99. Non lo so. Sugiura è un uomo di un uomo. Cosa ha il caso di un uomo. Poi ci sono i miei informati. Il Signore di Sawa Yoko ha fatto un uomo. Sawa-san è stato un ragazzo di Mamiya, quindi? 13 anni prima di studiare a Kurokawa, Sawa-san è stato un professore di professore di professore. Hai sentito? Qual è il tuo caso? C'è un problema? C'è un problema con Yoko? Non c'è mai parlato con Yoko. Non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Nel caso di un problema, mi sono venuto a casa di lui. Mi sono venuto a casa di Kutakata. Kutakata, mi ricorda? Mi ricorda di Kutakata? Mi ricorda di Kutakata, ma c'è un problema di Kutakata. Non c'è nessuna cosa che chiara a casa. Ma c'è nessuna cosa che ha presentato a casa. E anche il problema di Kutakata è che nel caso di Sawa. Dueci, voi chiedere la cosa che è stata da casa. Perché è questo? Perchè, ci sono ancora una cosa che ci sia possibile. Si vorremente, siamo sempre che lavorare sui modo da cercare lo stesso. Ma Mia, non c'è trocare di parecchio che è una persona no no sembra 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 quindi vorrei parlare ora 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 grazie però mi sembra né sorpresa non lo so ci sta mettendo un sacco che stia ideando un piano di fuga o cosa del genere un 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 Ma dove cominciare? Ho un mucchio di domande da farle Lei non mi sembra così disposta a rispondere Ma se le infastidissi Verremmo cacciati fuori Senza ottenere nulla di concreto Sì Essere così direi Cosa dovrei chiederle? Sarebbe meglio evitare argomenti che possono mettere sulla difensiva Tipo questo Si ricorda di Suro Kusumoto Suro Kusumoto Suro Kusumoto Suro Kusumoto Suro Kusumoto Sì 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 Nulla sembra smuoverla, forse dovrei arrivare al noccio della questione. Cioè, quindi io diciamo veramente così di botto? Sì. 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 E' impossibile che io Kitakata, cioè Kuwana, non ricordi il volto di lui, ma mia. E la prova è... il video. Video. Sì. 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 Dai, facciamo l'arredamento Vediamo Vabbè, sono abbastanza devolucci Più che abbastanza Stει mai... Non è mai un problema C'è un patacino C'è un'adra di Maracay, 30 anni Sono una professores. Tutti tutti i'oi chiamati C'è un'esplosione Grazie a tutti andiamo, forse adesso vuota il sacco sono un'accento più sicuro ma sono un'accento che è molto facile non ti senti così, non ti senti ti chiedi,東 non è un problema così non c'è più che c'è un problema di più è un problema di legge cosa faccio? fare un po' di più beh, è così beh,東 hai detto che hai detto che hai detto che hai detto Ah? Che cosa? Chi è il suo padre del ragazzo? Beh, sai che ci sono due a parlare di noi. Questa è Mamiya Yui. È stato un personaggio che aveva a prendere i ragazzi. Si, si. Questa è una cosa! Che cosa ha avuto il ragazzo? Ah, te ne! Tu dovessi essere arrivato a presto, Gagami! Oh, che... RK noi... Che cosa è che i ragazzi hanno fatto? Perchè, che si è semplice, mi sembrava che sia inizia a presto. Adesso, dovessi andare a prendere? Ma mia, anche se stanno con la mia? Mi... Cosa vuoi fare? Ti vorrei sapere tutto ciò che conosciuto Se il tuo cuore, pensiamo a farlo come usare Sì, in effetti avevamo portato anche qui Nel primo, un prigioniero Era il capo dell'equip dell'ospedale Tutto Video episodio di bullismo e danni Io inizierei da Yara, probabilmente Io inizierei da Yara, probabilmente Io inizierei da Yara, probabilmente Cosa? 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 Perché solo il mondo è un po' di sottotitoli? Non c'era nessun video che non puoi vedere nessuno? No, non c'è nessuno che non conosceva. Non conosceva un video, non conosceva l'acqua. Non conosceva l'acqua, ma dopo aver guardato. Perché non conosceva l'acqua? No, non è vero. non è così probabilmente noi eravamo molti amici quindi se non si tratta se non si tratta se non è ancora un bambino ma è che si tratta adesso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti